Sbloccati attraverso un apposito decreto i fondi necessari per il pagamento degli uomini radar dell'aeroporto di Comiso. A darne notizie all'onorevole Nello Di Pasquale, la regione dopo le rassicurazioni dell'assessore all'economia Alessandro Baccei ieri ha proceduto con l'erogazione delle somme necessarie per il pagamento dei cosiddetti servizi di assistenza al volo. Un costo che negli altri aeroporti italiani è sostenuto dallo Stato, mentre per il Piola Torre, primo aeroporto sorto dal dopoguerra oggi, è ancora a carico della società. Fino ad ora un aiuto è arrivato dalla regione, che però per problemi di liquidità aveva erogato le somme per coprire le spettanze solo fino al 31 agosto 2015. Ad anticipare all'Enav i 210.000 euro mensili necessari da agosto era stata la SOACO, che ora verrà rimborsata. La questione potrà essere risolta soltanto quando arriverà la firma del decreto all'accordo di programma per i servizi Stato Enav, in modo tale che finalmente, come avviene per tutti gli altri aeroporti, anche i controllori dello scalo di Comis, ormai divenuto di interesse nazionale, saranno pagati dallo Stato. Ottimista sulla questione il sindaco Filippo Spataro, che parla di ultimo miglio da percorrere per chiudere definitivamente la faccenda.